allora raga benvenuti a jumbo in un nuovo video questo è un video dove io praticamente mi scuso perché sono un mezzo mongoloide del cazzo perché ho registrato ho scaricato un nuovo gioco tra virgolette avevo registrato un bel ci sarebbe stata la storia con il gioco di adventure time però io aspettate un secondo che sistemi una cosa la cerco di metterla dritta ragazzi dritta un cazzo vabbè comunque io come un pirla non ho attivato uno l'audio comunque non ho sentito un cazzo di quello che ho detto non si sente la storia non si sente niente due l'avevo messo in inglese invece di metterlo in italiano dunque sono un doppio mongoloide ragazzi è successo un casino non si sente né l'audio né nel cazzo beh si sente un cazzo e c'è scritto pure in inglese poi dopo ho provato metterlo in italiano ci ho messo più di un quarto d'ora più di un quarto d'ora a trasferirci tutto in italiano di mortacci sua e allora ragazzi niente io ve lo porto lo stesso la clip oggi farò il secondo episodio naturalmente naturalmente lì ho già in italiano già l'ho sistemato già ho registrato già l'ho fatto dove io parlo si capisce tutto vi racconto tutto perché a parte che i due personaggi che ho è vabbè il primo personaggio di da non mi ricordo come si chiama vabbè comunque ho trovato il golem in una cassa comunque vedete tutto nel video anche se non sentite una ceppa di minchia io come un pesce come un pesce non ho attivato l'audio e non ci posso fare niente perché sono un mongoloide ragazzi cioè perché ho detto vabbè dai erano le due quando ho registrato ho detto vabbè parlo sottovoce chiudo la porta e non sente nessuno però io prima molto prima ho fatto una video chiamata con i miei amici perché il mio telefono registra il microfono se c'è o mi fa la registrazione schermo se il microfono è attivato allora io come un pirla non ho rimesso registra anche il vocale no ho messo soltanto il coso del del gioco che quello si sente l'audio del gioco però non si sente la voce un praticamente buttato accesso quasi 12 minuti di registrazione ottimo il giambo ragazzi è sempre il top comunque io ho fatto questo video praticamente vabbè dura poco quello fatto per scusarmi e per spiegarvi se non sentirete la mia voce se non si capisce tanto nel video ragazzi mi dispiace io l'ho fatto c'è l'ho fatto sto video per scusarmi con voi e comunque vabbè raga vi lascio la clip del gioco lì su youtube e oggi uscirà secondo episodio mi dispiace tanto saluti da giambo